salve a tutti oggi voglio presentarvi questa smart tv della tcl 4k 144 hertz con un audio griffato onchio un prodotto di fascia medio alta molto valido ad un prezzo strepitoso stiamo parlando di un prezzo che comunque si aggira intorno ai 600 650 euro e secondo me il rapporto qualità prezzo è molto elevato soprattutto anche per l'audio che ha e la differenza si sente e come logico che non è facile presentare una tv non è facile farvi sentire quanto bene si sente dovete venire a vederla in negozio nel frattempo se volete iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto così mi aiutate a portare altri video ecco dentro la scatola troviamo due telecomandi il primo è questo che è un telecomando bluetooth smart come vedete non ha i tasti numerici è molto semplice ma vi porta ad andare direttamente in internet e usarlo appunto come smart come smart del telecomando poi c'è il secondo telecomando che ha tutti i tasti e come vedete tutti i numeri e tutti i menu impostazioni è più completo e magari lo può usare la prima volta che si installa la tv poi io ad esempio uso solo quello smart troviamo il cavo di alimentazione che è un cavo semplicissimo poi troviamo le batterie dei telecomandi che sono due appunto i telecomandi quindi sono due copie di batterie troviamo le viti dei supporti che poi andiamo a vedere come installarlo installarli i due supportini i piedistalli che troviamo all'interno e poi troviamo anche appunto i piedini che servono a sorreggere la tv adesso vi faccio vedere come è fatta sotto che vedete qua sono le casse dell'onchio che poi andremo a parlarne vedete il marchio onchio e adesso voglio farvi vedere questo interruttorino qua che magari tutti non sanno è un interruttore che serve per attivare o disattivare il microfono della tv per l'assistente vocale quindi se non voglio che nessuno mi ascolti chiudo e in effetti mi viene disattivato il microfono o abilitato in base a come metto l'interruttore questo è il dietro della tv e adesso vi faccio vedere come installare i piedini allora sono due i piedini e per fortuna si sono pensati di non farli ai lati estremi poi vi faccio vedere anche la misura dei piedini allora questi due piedini come vedete hanno una plastica di protezione che bisogna togliere per mettere sulla seconda vite questa è la plastica vedete che c'era solo un foro e poi qui quel foro che vedete sotto è un passacavi comunque adesso vediamo invece ce ne sono due di fuori quindi tolgo la mia plastica di copertura è un po' duretta ma comunque viene via eccolo qui così posso vedere per mettere sulla seconda vite quindi appoggio qua metto sulla prima vite e poi mettiamo sulla seconda io adesso accelero un po' le riprese così non vi annoio bene mettiamo su prima mettiamo sulla copertura adesso prendiamo il secondo piedino stessa cosa vedete quel passaggio lì serve per far passare i cavi dietro come vedete l'immagine e per non vedere proprio nessun filo in modo che i piedini mi coprono i due i due fili che possono uscire quello dell'antenna quella dell'alimentazione ad esempio comunque ce ne stanno altri di fili ok mettiamo sul secondo piedino una volta messi su andiamo a misurare la distanza esterna da un piedino all'altro che sono intorno ai 35 centimetri una volta messi sui piedini va messa su questa plastica che una copertura che si trova all'interno della scatola in modo da non vedere più niente abbiamo questo piedistallo unico anche se sono due piedini sembra un piedistallo unico anche qui rifinito molto bene come vediamo è un vantaggio non da poco avere un piedistallo centrale unico perché quasi tutti adesso mettono i piedini all'esterno e se non abbiamo una mensola abbastanza larga un mobile abbastanza largo non ci sta questa è la parte posteriore della televisione vediamo un usb 2.0 una presa lan un hdmi 2 hdmi l'uno e la due tutte e due una da 144 hz l'altra 120 hz quindi scolleghiamo una console colleghiamolo sull'hdmi 1 c'è una console ad alte prestazioni vedete che c'è scritto 144 hz l'altra 120 poi abbiamo presa dell'antenna presa del satellite l'uscita ottica digitale l'hdmi 3 e 4 tutte e due 60 hz poi abbiamo un ingresso vga vecchio e una presa usb una presa jack da 3 e mezzo per collegare le cuffie adesso andiamo a sintonizzare la tv per la prima volta quindi fare la prima installazione vado a scegliere la lingua italiano poi metto il paese italia gli do l'ok col tasto centrale configura google tv qui decidete voi sarebbe da configurarlo con l'email che ho anche sul cellulare in modo da condividere tutto quanto e che mettere la password del wifi lui si connette connessione stabilita e adesso qui date sempre accetta posizione caso negozio bisognerà mettere casa perché siete casa vostra anche se io sono in negozio qui mettete una password che dopo dovete ricordarvela e questo ve lo chiede ogni volta che andate a rifare la sintonia quindi mettete 1 2 3 4 quello che volete voi quello che vi poi vi ricordate perché fra un anno dovete rifare la sintonia dovete ricordarvi questo codice che è molto importante scrivetelo da qualche parte gli diamo ricerca automatica qui al posto di cavo andiamo a mettere antenna digitale ricerca ricerca automatica e avvio bene adesso troverà intorno ai 200 canali all'incirca poi si sistema in automatico con l'alcn quindi diamo successivo concordo concordo anche qui diamo l'ok aggiornamento automatico io ho messo per mettere e poi successivo adesso abbiniamo il telecomando premendo il tasto home e il tasto ok questo con il telecomando sia quello smart che il telecomando quello più completo e adesso separirà il menu di google tv che è questo classico menu che è molto simile a quello di android vado a selezionare la sorgente tv in questo caso che visto che abbiamo appena fatto la sintonia diamo l'ok e adesso appariranno i canali registrati il menu vedete il classico ad icone orizzontali molto semplice già con netflix amazon prime tutto quello che serve al giorno d'oggi qui se volete configurare appunto google tv come vi dicevo prima mettete la vostra email il vostro account la vostra password in modo che arrivate e avete già le foto e tutto quello che avete sul cellulare bene adesso vi abbiamo dato l'ok doveva partire appunto per la configurazione di google tv vedete vedete il vostro account io adesso non lo metto email password e così è abbinato direttamente al telefonino quando dovete condividere qualcosa è già abbinato torniamo sul nostro menu principale qui vi faccio vedere un po' come funziona il menu ma penso che dopo bisognerebbe guardare funzione per funzione per capire bene come com'è poi se avete bisogno io sono qui chiedetemi pure se non sapete qualcosa magari mi date anche qualche idea per prossimi video per se mi chiedete qualche informazione qui il ragionamento del software lo metto sempre automatico se un domani volete reinstallare la tv avete visto c'è la scrittura in posta e potete reinstallarla dall'inizio c'è il talkback queste cose vabbè comunque qua poi studiatevelo ognuno a casa vostra adesso vorrei ritornare sulla tv per far vedere la linea come è fatta vedete che tutta la tv ha delle protezioni ed è una delle poche e qui state attenti quando tirate fuori la tv dalla scatola che ha le protezioni bianche che avete visto forse no non ce ne sono viste perché l'avevo già tolte ha delle protezioni in plastica bianche sui lati appunto per non tirare fuori la tv e rompere il display perché se non vedete il display addio potete buttarla via la tv in questo caso vediamo che ha questi bordini grigi metallizzati bellissimi tutti protetti la scritta onchio è ormai un bordless perché non ha più bordi praticamente sembra quasi che la tv finisca proprio sul bordo estremo dei lati secondo me è una tv rifinita bene bella elegante e magari appeso su un muro sembra proprio un quadro praticamente adesso vi farò vedere come si vede anche se per vedere bene come si vede doveste venire in negozio e ascoltare come si sente perché questa tv si sente veramente da dio a differenza di tante altre tv magari anche più costose che hanno un audio che fa veramente pietà secondo me non ha neanche bisogno di una soundbar ecco qui vi faccio vedere tutto il bordo perché è veramente elegante e molto bello poi torno a ripetere è una tv completa QLED 144 Hz come avete visto l'HDMI 1 è 144 Hz quindi per i giocatori di videogiochi sanno bene cosa vuol dire si vede bene ha dei bei contrasti non ha aloni bianchi o grigi soliti del LED e soprattutto torno a ripetere questo benedetto audio perché tante persone si vengono a lamentare che le tv di oggi si sente male ma qui anche nei dialoghi si sente bene adesso non avevo sulla plastica in questo momento comunque dopo avete visto che ho messo sulla plastica di copertura sui piedini adesso vi farò vedere delle immagini del mare giusto per farvi vedere dei contrasti che ha questa tv che merita tutto dopo secondo me non è facile far vedere una tv quanto bene si vede perché se questo video lo state guardando su un'altra tv che magari non ha la qualità o su un cellulare che non ha un buon display non c'è differenza e quindi dovete vederla dal vivo per vedere e per giudicare la tv e secondo me la tv va acquistata in base a come si vede e come si sente quindi andate su un negozio fisico e guardate bene come funziona e come si vede ritorno un attimo sul telecomando smart semplicissimo già con tutte le icone delle applicazioni e anche questo avere un secondo telecomando secondo me è un altro bel vantaggio che TCL ha pensato bene direi di concludere qui il video se avete domande scrivetemi pure se avete dubbi se volete sapere qualcosa io sono qui in qualche modo cerco di rispondervi a tutti e cerco di essere nei tempi giusti se il video vi è piaciuto e vi è stato utile mettete un like iscrivetevi al canale e attivate i tasti notifiche grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti